Ciao a tutti ben ritrovati, abbiamo finito di dare un'occhiata all'introduzione del DAX quindi abbiamo visto un po' di funzioni semplici e nel frattempo abbiamo imparato qualcosina sulle misure e sui campi calcolati adesso faremo una lezione molto veloce, vi farò vedere un sito che vi do, che è praticamente la guida al DAX è importantissimo perché vi aiuta a capire le varie funzioni che esistono in DAX e vi danno riferimento anche sulla versione di Excel in cui le trovate e altre cose che adesso andremo a vedere allora il sito è DAX.guide, quindi apriamo il nostro bel browser, andiamo su DAX.guide e qui vedete si presenta così, allora qui possiamo fare una ricerca dalla A alla Z e noi abbiamo tutte le funzioni DAX che vanno dalla A alla Z piuttosto che possiamo dividerle per gruppi, piuttosto che possiamo cercarne una ok, piuttosto che vogliamo vedere solo le funzioni che appartengono a una determinata release ok, difatti Power BI si intende la Power BI Desktop Excel 2019 va bene anche lato 365 ad ogni modo noi lasciamo all products adesso andiamo ad esempio in gruppi qui vedete anche, vi porta anche a delle, ovviamente tutto in inglese il sito internet come sempre se volete andate su Google Translator qui ci mettete il link, premete il link così lui vi traduce tutto da inglese a italiano se avete difficoltà con la lingua e poi lo navigate comunque traduce abbastanza bene perché è stato scritto molto bene questo sito qua ovviamente gli sponsor sono quelli che vedete qui in basso ad esempio vedete, volete vedere come funziona la funzione aggregazione andate qui, andate in dettaglio e qui vi fa vedere tutte le funzioni che fanno le aggregazioni vi dà una descrizione della cosa piuttosto che andiamo a vedere ad esempio, raggruppiamo, andiamo sulle funzioni ad esempio qui vedete abbiamo gli operatori vedete l'end, doppia end e qui vi spiega anche come si fa a fare se andiamo sulle funzioni andiamo ad esempio a vedere quelle di aggregazione poi andiamo ad esempio sulla sumx che abbiamo già visto vedete lui vi dice che cosa fa la funzione e poi vi dice anche come funziona praticamente questo è quello che lui chiede quindi sumx si mette la tabella, il set di dati sul quale noi vogliamo andare a lavorare quindi qui eventualmente ci applichiamo un filtro con una funzione filter che abbiamo già visto poi diciamo la misura che vogliamo andare a sommare di fatti lui dice che la prima parte è un iteratore e qui spiega che cosa va fatto e la seconda parte è l'espressione che è quella che poi viene valutata su tutte le righe qui a destra vediamo appunto la release in cui viene supportata questa funzione se ad esempio andiamo su min a vedete anche qui abbiamo tutte le release adesso volevo trovarne una che non ce l'ha tutte ecco, distant count no blank ok, su Excel non è supportata è supportata solo su Power BI ovviamente la Power BI è sempre più avanti rispetto ad Excel anche se avete la 365 è più indietro il DAX quindi un'altra cosa importante è che vedete lui qui mette la virgola allora la virgola si usa quando utilizziamo Power BI Desktop o la Power BI Service se utilizziamo Excel dove vedete la virgola va sempre messo il punto e virgola non so perché abbiano fatto bene questa differenza tra Excel e Power BI io avrei fatto tutto uguale comunque probabilmente avranno avuto i loro motivi ad ogni modo questo è semplicemente il sito che vi spiega un po' tutto sulle funzioni quindi se avete dei dubbi e volete imparare una nuova funzione o state cercando qualcosa andate anche qua magari ovviamente pensate sempre in inglese ad esempio l'arrotondamento che abbiamo visto nelle lezioni precedenti è Round lo scrivete in inglese facciamo una ricerca e ecco che lui fa una proposta di tutte le funzioni quindi mi mette ad esempio Roundup io clicco e ecco qua che lui mi dice vedete cosa fa bene con questa lezione molto rapida è tutto spero sia stata di vostro interesse ovviamente il link lo trovate anche sotto in descrizione come sempre se non siete iscritti iscrivetevi al canale premendo il bottone rosso che sta qua sotto e ci vediamo alla prossima lezione nella quale andremo a vedere come funzionano le variabili in DAX a presto, ciao!